Mister, capisco perfettamente che abbiamo iniziato il lavoro da due giorni, capisco che il mercato è ancora aperto e sappiamo benissimo che mancano ancora i nazionali, però provo ad andare sul campo. Lei nella prima conferenza ha parlato di soluzione A4 e soluzione A5, vorrei approfondire un po' quando mancherà un centrale difensivo e quindi ci sarà la soluzione A4. A quel giocatore lì cosa diventerà, il terzo centrocampista o il quarto attaccante e se fra le due soluzioni, dopo che mi risponde alla prima, se fra le due soluzioni ce n'è una, cinque o quattro, che lei ritiene prevalente sull'altra? Se vogliamo parlare da un punto di vista tattico, noi lavoreremo su un tipo di costruzione che può essere utilizzata sia giocando A4 che giocando A3. Quindi questo deve essere chiaro, ma perché lavoreremo su un'unica costruzione? Proprio perché nel momento in cui ci sono alcune partite o comunque si deve iniziare per ridare un po' anche un minimo di equilibrio, visto che prima nei dati era emerso che eravamo l'undicesima peggior difesa dell'ultimo campionato, si possa iniziare in una determinata maniera per dare delle certezze e al tempo stesso durante il campionato, ripeto, l'opportunità di, non cambiando il tipo di costruzione, cambia solamente il tipo di pressione che tu vai a fare, perché può diventare un 4-4-2 invece di essere un 3-4-3, ecco come è come situazione. Si è un alto attaccante o comunque un tre quarti, un centrocampista, ecco, nel senso che alla fine, anche quando tu ti metti con un 4-3-3, vuoi fare una pressione alta, è uno dei due centrocampisti che si alza vicino all'attaccante. Se giochi con un numero 10 contro il quartista o con un attaccante come Raspadori, è lui che si alza a fianco alla prima punta, ecco, avendo due esterni, due centrocampisti e i quattro dietro. Abbiamo fatto anche il tipo di mercato in funzione anche proprio di questa idea, perché Buongiorno è un giocatore che ti può giocare a 4, ti può giocare da centro-sinistra o da centrale a 3. non dimentichiamo che abbiamo Olivera, che lo vedo anche da centrale da braccetto di sinistra, e anche a 4 da terzino sinistro. Lo stesso di Lorenzo, ti può giocare da difensore centrale a 3 o esterno di fascia. Detto questo, cercheremo di valorizzare le caratteristiche dei calciatori, che valorizzare le caratteristiche dei calciatori significa dare spazio alla qualità di Quara, alla qualità di Politano, bravissimi nell'uno contro uno, lo stesso Lindström e Cyril Andonghe, in cui cercheremo di attaccare in una determinata maniera, dare anche più libertà a questi fantasisti, anche di giocare dentro, perché hanno le qualità, è inevitabile che quando vengono dentro c'è qualcuno che si apre, quando loro stanno fuori c'è qualcuno che viene dentro. Quindi diciamo che anche da un punto di vista tattico è molto chiara la situazione, deve essere una squadra molto intensa, perché comunque dovremo essere molto intensi, non voglio una squadra passiva, voglio una squadra che comunque la partita la voglia fare. Poi torniamo sempre al solito discorso. Noi quando parliamo possiamo fare gli scienziati e dire vogliamo essere dominanti, i propositivi, tutte le cose, poi però affronti un'altra squadra che è più forte e ti mette dietro, che devi mettere l'elmetto e ti devi difendere, perché anche questo lo dobbiamo dire, no? Ecco perché, ripeto, parliamo poco, io simpatisco, meno proclami facciamo, più sarà bello eventualmente sorprendere, ecco, questa è la cosa che noi dobbiamo. Però anche da un punto di vista del mercato stiamo facendo delle scelte proprio per avere l'opportunità di decidere che tipo di situazione senza portare scompensi alla fase di costruzione o alla fase di aggressione.